Ciao a tutti, siamo qua all'Università Bicocca di Milano e in occasione del nostro progetto AI Bicocca che mira a sviluppare l'imprenditività e l'innovatività degli studenti abbiamo invitato qui Alberto Pedroli di UbiBanca che ci parlerà della sua esperienza e adesso faremo una breve intervista. Dunque, come prima domanda le volevo chiedere che cosa l'ha spinta da giovane a intraprendere questo cammino nel settore bancario. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, sono davvero lusingato di essere qua. Mi ha spinto un amore innato per quello che riguardava il mondo della banca, che vedevo essere e pensavo essere il mondo della banca, per cui è una vocazione fanciulla, non ho avuto una motivazione differente. Ok, come seconda domanda le volevo chiedere come mai si può parlare oggi giorno di Banca 4.0 e qual è stato il trigger, qual è stata la situazione, il fenomeno che l'ha portata ad essere appunto Banca 4.0? Banca 4.0 possiamo dire è uno slogan che ha inventato il professor Capocchi, tentandomi il titolo di questo invito. Nasce da due fenomeni secondo me congiunti. Uno, la grande crisi che ha profondamente cambiato la geografia economica del mondo e anche la segmentazione economica. Viviamo oggi un mondo con una ricchezza molto più polarizzata e molto meno distribuita. Questo non è mai fuoriero di bene in un contesto neanche economico. La seconda cosa è indubbiamente la grande rivoluzione digitale. È un motore che dà un costo serve, miglioro il costo del mio servizio, a un cliente che oggi traina le banche verso la sua capacità digitale. E questa è veramente un'innovazione che girerà il mondo. Il mondo sarà podalico o era podalico o diventerà geofanico. Adesso vorremmo chiedere quale sarà il futuro del sistema bancario, quelle prospettive, quelle precisate. Il sistema bancario vive, il sistema bancario in particolare italiano ovviamente, vive in un contesto di forte regolamentazione. Questo crea una quantità di obblighi e di situazioni che per essere affrontate richiedono dimensione. Ancora la dimensione consente economia di scala nei confronti di un ricavo che stenta aggression. Questo contesto, ripeto, porta a dimensione. Come vedete ci sono tutte le sette di movimenti che tentano anche in Italia di raggruppare in aziende sicuramente più dimensionate. Come ultima domanda vorremmo chiederle qualche consiglio per i giovani su cosa studiare, su quale futuro intraprendere la nostra crisi. Le banche attuali stanno rilasciando professionalità invece che prenderle. Sono più le figure che vengono mandate in crescenza che non invece i giovani che vengono assunti. Questo nel medio periodo è sicuramente un problema. Ad un giovane io direi la banca sì, sì, con una grande ambizione verso il fatto che la sua esperienza professionale porti ad una nuova distribuzione della ricchezza a livello sociale. Questo è fondamentale, una grande aspirazione etica se permettete. Da questo punto di vista io non limiterei il percorso di studi o il bulk di libri che uno porterà un po' nella propria memoria. Io direi di esercitare invece la grande curiosità perché sarà un mondo tanto veloce, tanto informatizzato e informato che la curiosità sarà veramente il gradiente del successo professionale di una figura nei prossimi anni. Questa è anche la nostra filosofia del nostro progetto Ivy Cocca, poiché pensiamo che gli studenti debbano affiancare all'università le lezioni classiche anche una formazione esterna, quindi essere curiosi perché il mondo va sempre più veloce e dobbiamo cercare di stare al passo. Quindi noi la ringraziamo. È un buono per me, è un buono per me davvero. Noi ci vediamo ai prossimi eventi di Ivy Cocca.